Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa. La storia straziante ma piena di speranza di una giovane madre alla disperata ricerca di redenzione che offre una prospettiva toccante sulla possibilità di riscatto e di costruire un futuro, migliore nonostante gli errori commessi, mentre esplora il tema della ricerca di una seconda possibilità e della speranza di un cambiamento positivo. La trama del libro Reminders of Him. La parte migliore di te della scrittrice Colleen Hoover, casa editrice Spurlingy Kapfer, è la seguente. Dopo aver scontato cinque anni di prigione per un tragico errore che costò la vita al suo grande amore Scott, Ken Rowan torna a casa con l'unico desiderio di riabbracciare Diem, la figlia di quattro anni che non ha mai conosciuto. Ma i vecchi rancori sono duri a morire, tutti nella vita della bambina sono determinati a esplodere Kenna, non importa quanto duramente lavori per dimostrare di essere cambiata. L'unica persona che non le ha chiuso completamente la porta è Ledger Ward, proprietario del bar della città. Ma se qualcuno dovesse scoprire che lui, pian piano, sta diventando una parte importante della sua vita, entrambi rischierebbero di perdere la fiducia di tutte le persone importanti per loro. Ma se Kenna vuole costruire un futuro con lui e Diem, dovrà trovare un modo per riparare agli errori del passato. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.